Una volta la politica era relazione, territorio, idee. Oggi l'innovazione è entrata nelle relazioni tra le persone. Oggi le relazioni e la partecipazione delle persone nella politica si possono moltiplicare in modo straordinario grazie alle nuove tecnologie. Una sola generazione ha cambiato le regole e attivato un'evoluzione inarrestabile. La sfida è interpretarla e farla propria. Il futuro è una conquista. Tecnologia, comunicazione, cultura e politica si intrecciano e crescono insieme. La politica continua ad essere relazione, territorio e idee. Ma oggi la relazione vive 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Il territorio è connesso in rete e le idee viaggiano alla velocità della luce. Nasce qui futuro e libertà per l'Italia. Non semplicemente un nuovo partito, ma un modo di fare politica che ha nella partecipazione la sua parola d'ordine. Immaginiamo un luogo in cui gli incontri politici, come la passione politica, non si fermano mai. Un luogo in cui il militante e il parlamentare possano confrontarsi alla pari. In cui le idee sono ascoltate, considerate, portate all'attenzione di tutti, in tempo reale. Questo luogo si trova nella rete. Lo stiamo costruendo. Si chiama FLI Live.